Era in programma una festa di compleanno con al massimo un centinaio di partecipanti, ma nel locale si sono presentati in 500 e sono arrivati i carabinieri per evitare che l'assembramento potesse avere conseguenze peggiori. È successo sabato sera in un agriturismo nella zona nord di Pesaro, preso d'assalto da centinaia di ragazzi, molti dei quali minorenni. Era la serata di compleanno di un diciottenne che aveva invitato gli amici per festeggiare la maggior età, ma qualcosa è andato fuori controllo. Un tam tam social e qualcuno che ha venduto gli ingressi a 10 euro, come se si trattasse di una festa in discoteca, e così il raduno davanti all'agriturismo. Ai carabinieri sono arrivate sabato sera diverse chiamate da parte dei residenti delle località vicine, che avvertivano della presenza di un flusso di scooter e auto andare verso il locale. I carabinieri hanno raggiunto il luogo della festa e dopo che si sono accorti della situazione hanno chiamato i rinforzi, arrivati da Pesaro, Montecchio e Gabicce. Un numero considerevole di uomini dell'arma intervenuti per tenere sotto controllo gli oltre 500 giovani assembrati, tutti convinti di poter entrare alla festa, che di fatto non era abusiva, perché è nata con una normale cena di compleanno. In regola anche il pagamento siae, ma solo per gli invitati che avevano preso posto a tavola. Una situazione potenzialmente pericolosa, non solo per le questioni legate al distanziamento, ma anche per le eventuali conseguenze derivanti da stati di ubriachezza. Vedi il rischio di risse. I militari hanno allontanato i gruppi di giovani, evitando che gli animi si potessero surriscaldare. Al momento non ci sono state denunce, ma gli approfondimenti sono in corso. Dopo l'una tutti i giovani se n'erano andati.